Lavoratori della Italcementi ancora una volta in strada, due giorni dalla prima protesta, ancora una volta un blocco della Tiburtina della strada che attraversa il comune di Scafa dove insiste lo stabilimento a far visita ai lavoratori. È arrivato anche il presidente della provincia di Pescara, Guerino Testa, che ha rassicurato sull'incontro a Roma con i rappresentanti abruzzesi al governo. Noi dobbiamo da subito fare un'opera di lobby positiva con il governo, quindi tramite il sottosegretario Legnini e il ministro Quagliarello affinché al mese possiamo portare con forza le ragioni dei sindacati e dei lavoratori. Dunque l'incontro con i rappresentanti abruzzesi al governo ci sarà? È un passo avanti ma la strada è ancora lunga? Sicuramente sì, noi il 5 speriamo di vederci a Roma con Quagliarello e Legnini in cui spiegheremo precisamente i problemi di questa vallata e di questa azienda. Noi intendiamo esporre a loro le problematiche occupazionali di 150 maestranze e quindi 150 famiglie e chiediamo a loro un impegno concreto perché la politica deve essere concreta affinché l'insieme di Scafa rimanga a Scafa con tutte le sue attività e quindi con tutti i livelli occupazionali. E la vedete alle nostre spalle, la fabbrica chiusa, ferma, i cancelli sono serrati, non lavora più nessuno è come se fosse fermo il cuore economico di Scafa, i lavoratori stanno lottando per evitare la chiusura di una fabbrica che rappresenta davvero la storia di questo piccolo centro della Val Pescara. Non può chiudere perché rappresenta 150 anni della nostra storia, a fine 800 noi avevamo la fabbrica che produceva i derivati dell'asfalto quando a Torino la Fiat non esisteva. È una fabbrica che potrebbe avere un ottimo futuro, noi sappiamo che c'è un ordinativo di 35.000 metri quadri di mattonelle da parte delle ferrovie dello Stato e che non riesce a far fronte a questa commissione. Quindi le risorse e le potenzialità anche in termini di mercato ci sono.